Faccio questo video proprio a perder tempo. Senza scazzo, calmo e tranquillo. Se durerà tanto potete anche non ascoltarlo tutto, tanto ora su YouTube la moda è di ascoltare 45 secondi di video e commentare bellissimo brocio e sei troppo forte. Che merda. Uno schifo. Vorrei iniziare questo dibattito con una parola, ma che cazzo fate? Ma c'è stata una regressione all'infanzia? Tutti che si appeggiano all'opendisti, professional designer, contro cazzi suegiu, a destra e sinistra. Spammer che accusano spammer di aver fatto spam. Ah mi fate ammazzare così? Gente che fa il sub for sub che accusa altri di fare sub for sub, vai a vedere aumentano di 40 iscritti al giorno. video sempre uguali, fottutamente uguali, brovi riscaldati in tutte le salse, cose viste e riviste. Ma avete qualche idea nuova in testa? Il bello è che ci prendete pure le visualizzazioni, e grazie, lo spammate su tutto facebook. Uno prova a fare video originali e di qualità anche con grandi strumenti come l'HDPDR, ma riceve massimo 50 visualizzazioni, voi registrate con i sassi e ne prendete 80.000. Poi dici perché ti passa la voglia di fare video. Se una persona sta antipatica o in conflitto con una seconda, questa gli porta tutti gli amici suoi e contatti secondari e il povero si ritrova con 20 non mi piace. Ma stiamo scherzando? Basta con questa merda, Youtube Italia è diventato un postaccio e questo lo possiamo capire da questi bambini che si appeggiano a grandi programmatori. Per poi non parlare del loro italiano da secondo elementare, un gatto parla meglio anche scureggiando. Studiate, poi, a tempo perso si fanno video. Ciao PS Riferimenti a fatti, persone, cose, gorilla obesi, gatti che scureggiano e bambini che si credono che è puramente casuale.